L'Avvento è proprio il tempo della vocazione, dell'essenziale di ogni vocazione cristiana che è la vocazione della Vergine Maria, accogliere il Verbo, permettergli di incarnarsi in noi, di realizzare in noi la sua presenza e il suo amore. E anche Maria ci insegna proprio ad accogliere questa vocazione con obbedienza. Penso che il primo voto di Maria è stato essere serva del Signore, un voto di obbedienza per lasciare spazio a Lui, per lasciare spazio al progetto di Dio nella sua vita e nel suo cuore. Ed è questo tutto, che poi comporta tutto il resto. Buon Avento e Buon Natale e condividi.